Buonasera, benvenuti, come sempre ringraziamento sincero alla libreria Cavour, questo prezioso servizio a favore dell'antroposofia. Dunque la conferenza di stasera sostanzialmente è la seconda parte di quella di marzo sulla libertà, che è un tema molto vasto, a marzo l'abbiamo affrontato soprattutto sotto il profilo teorico. Oggi invece ci dedichiamo alla prassi, come si può difendere la propria libertà, cosa la insidia. Per chi è un po' nuovo a questi nostri incontri, queste conferenze avrebbero l'ambizione di costituire una specie di orientamento stabile per tutti quei cercatori, e sono per fortuna migliaia, che si troverebbero molto in difficoltà ad orientarsi da soli nella sterminata produzione steneriana, sono centinaia di edizioni. E l'esperienza ha dimostrato che nella stragrande maggioranza dei casi i solitari che a un certo punto arrivano a una paralisi di smarrimento. Come abbiamo anticipato a settembre, abbiamo intrapreso un percorso un po' diverso, cioè che tende a sviluppare la coscienza immaginativa, perché più si approfondiscono le tematiche spirituali, più ci si allontana dall'ordinaria della razionalità contemplativa e anche giudicante. Cioè si cominciano a affrontare delle visioni, delle concezioni, delle percezioni che i nostri denigratori più gentili chiamano fiabbeschi, e i meno gentili allucinazioni. E oggi ne incontreremo parecchie, perché il tema di oggi è il male. Qualcuno potrà chiedersi che c'entra con l'equilibrio interiore, è proprio lui che ce lo vuole fare perdere. In tutte le religioni la figura del maligno è presente, a questo Papa la richiama spesso. Saranno tre settimane che in un telegiornale hanno trasmesso un piccolo inserto di un discorso, credo a un'assemblea di giovani, perché il tono sembrava quello. E ha usato più o meno queste parole, non abbassate mai la guardia perché il diavolo mi approfitta e vi rovina la vita. Forse non era esattamente così, ma al 90% sì. Ora il male non viaggia sulle nuvole, non viaggia nel vento, viaggia in personalità intelligenti che lo incarnano e lo esercitano. Quindi noi dobbiamo un po' rifarci agli albori della nostra storia, ecco perché affrontiamo il tema del male dopo diversi anni di conferenze, abbiamo cominciato nel 15 e siamo nel 19. Confesso che più di una volta mi sono trovato sorpreso che i cicli iniziali o conferenze isolate si davano come scopo proprio il male. Per affrontare il male ci vogliono le spalle larghe. Dunque, chi segue l'antroposofia sa che noi siamo la quarta incannazione di un corpo cosmico che prima abbiamo chiamato Saturno, poi Sole, poi Luna, poi Terra, in futuro Giove, Venere e Vulcano. In realtà andrebbero disegnati così, Saturno appena appena percepibile, Sole un po' di più, Luna ancora di più, molto percepibile e la Terra materializzata. E il futuro Giove andrebbe disegnato così, Venere così e finalmente Vulcano così, ancora oltre la sfera di Saturno e anche più rarefatto. Perché? Perché è lo stesso corpo. Certo, questo diagramma ci aiuta di più dal punto di vista razionale. Ora, agli inizi, noi sappiamo che la nostra storia comincia perché i troni sacrificano se stessi e si offrono come sostanza per il nuovo cosmo. Ecco, vedete, questo è già un concetto che per la razionalità, diciamo, anche non solo scientifica, è difficile da acquistire. Chi sono questi troni? Sono entità che hanno raggiunto la perfezione nell'universo precedente e noi in questo siamo d'accordo con la quantistica. per chi voglia approfondire, la conferenza di settembre del 2018. Ora, i troni sono arrivati a un livello tale di perfezione in cui l'unica cosa che possono fare per continuare la loro evoluzione è offrire se stessi, perché si arriva a quel punto. Il concetto è quello del sacrificio, che per noi è sempre associato a un connotato francamente negativo, ma il termine stesso vuol dire fare sacro e a certi livelli soprattutto si accompagna con una beatitudine che non si può descrivere a livello umano. Se dovessimo richiamare un episodio della nostra vita di comuni mortali, ecco, quando uno riesce una volta tanto a superare se stesso, a fare una buona azione, a essere generoso, dopo si sorprende con una forma di soddisfazione interiore che possiamo chiamare germe di beatitudine. Ora, offrono a chi questa loro sostanza? Ai cherubini, anche loro, entità derivanti da un universo precedente, e la maggior parte dei cherubini accetta il dono. Noi sappiamo, lo abbiamo spiegato a settembre, che da questo nasce il tempo, ma non tutti. Una parte lo rifiuta. E questa è una cosa importantissima, perché immaginate qua i troni che inviano la propria sostanza verso i cherubini e tutti l'accettano, invece a un certo punto c'è qualcuno che la rifiuta. Ecco, qui si forma un ingorgo, veramente, un ingorgo di fumo sacrificale, questa è proprio la definizione occulta. Importantissima, perché questo sarà l'appiglio, l'appoggio per tutte le entità che noi poi chiameremo portatrici del male, ostacolatori. Senza di questo, francamente, avremmo avuto un universo trasparente, quasi impercepibile. Lo stesso processo continua sul sole, accentuato, e finalmente arriviamo a quella parte che non è manifesta, cioè l'intervallo tra due incarnazioni, quella tra il sole e la luna, e qui la direzione dell'universo, dobbiamo usare questa frase, perché c'è una direzione dell'universo, in tutte le regioni è sempre stata prevista come Sacra Trimurti, Iside, Osiride, Horus, la nostra Trinità, perché quelli che ci accusano di essere fiabeschi non si accorgono di quanto è puerile, pitecantropico, sostenere che tutta la meraviglia che ci circonda, la stupenda genialità del nostro cervello, è tutto frutto di un calcolo probabilistico di particelle infinitesimali che si sono accoppiate felicemente, una volta sommiliate, e poi secondo l'adattamento del migliore sono arrivati fino a sviluppare tutto quello che ci circonda, tutto si è fatto da solo, senza un progetto, senza un'intelligenza, ma sono proprio bravi questi atomi, si accordano e viene fuori la Cappella Sistina, si accordano e viene fuori la Divina Commedia, il regimen tedesco di Brahms, eccetera, è molto più puerile quella di concezione che quella che cerchiamo qui di approfondire è comunque per gradi. Ora, la direzione dell'universo dà un impulso per cui le virtù, che come sappiamo sono l'entità di mezzo della seconda gerarchia, per chi non ha seguito tutte le conferenze, al di sopra dell'uomo, come dice la religione cristiana, ci sono gli angeli, gli arcangeli, gli arcai e sono la terza gerarchia, la seconda sono le dominazioni, cioè in termini spiriti della forma, spiriti del movimento, spiriti della saggezza e più ancora troniche, rubini e serafini. Ecco, gli spiriti del movimento, le virtù, anche loro hanno seguito l'evoluzione generale che prevede sempre che se tutti partono allo stesso momento qualcuno rimane indietro, questo è inevitabile. A quelle rimaste indietro viene dato l'impulso dalla direzione del cosmo di creare ostacoli. Perché? Beh, come dice quel proverbio latino bellissimo, ad astra per aspera, per sviluppare al massimo le capacità di un sistema, deve essere ostacolato. Se ci dovessero dire, ma è stato un errore fondamentale dell'educazione negli ultimi vent'anni, avergliela fatta facile. Aver tolto difficoltà ai giovani in tanti modi. Poi purtroppo ci sono quelli che ce n'hanno troppe di difficoltà, perché questo è un momento storico in cui la disuguaglianza è eccessiva in tutti i campi. E se uno analizza la propria vita si accorge che è cresciuto proprio grazie alle difficoltà. Superare un ostacolo ti costringe a tirare fuori delle forze, che se no la comodità cromosomica che tutti quanti ci coltiviamo occultamente non ce le farebbe superare. Quindi si debbono creare ostacoli. Quando si creano ostacoli tra due entità a livelli diversi c'è una lotta, c'è uno scontro. I resti di questo scontro potentissimo, lungo, cosmico, sono i planetoidi. E questo è l'inizio del male. La prima manifestazione del male è questa lotta. Già vediamo dunque che il male l'ha deciso il bene. È il risultato di una decisione della saggia direzione del cosmo che ha ritenuto necessario porre ostacoli. Questo è molto importante evidentemente. Si prosegue e arriviamo all'incarnazione Terra finalmente. Le prime due civiltà polare e iperborea non sono pertinenti a questo contenuto neosiologico e quindi ci rivolgiamo direttamente alla terza, alla Lemuria, per chi non ci ha seguito. La Lemuria era un continente che si trovava dove oggi c'è l'oceano, al resto del Madaskara, ovest della costa occidentale dell'Australia e al nord del confine del sud-est asiatico. Il continente è scomparso poi milioni di anni fa. Ecco, l'uomo già abitava lì, in una forma che assomiglia un po' a nectoplasma, veramente. Però in che misura? Ecco, apparire è la prima di queste entità portatrici di ostacoli, veramente, portatrici, diciamolo pure, del male, che noi chiamiamo tradizionalmente Lucifero. Lucifero è un'entità che non ha saputo sfruttare bene la sua evoluzione precedente ed è rimasto indietro. Adesso, per poter acquisire un livello evolutivo soddisfacente per lui, si deve aggrappare all'uomo. E lo fa. Si aggrappa al corpo astrale, che in quel momento era l'entità più evoluta che l'uomo aveva a disposizione. E questo è il peccato originale della mela, che naturalmente la leggenda si doveva riferire a persone molto semplici, privi di cultura, alfabeti, eccetera, anche non solo questi. Occultamente il corpo astrale è sempre identificato con la figura femminile, infatti l'Iside Sofia è il corpo astrale completamente purificato. Nel fare questo lo densifica. E allora l'uomo, che era un essere fatto esclusivamente di aria e calore, e per questo viveva in mezzo agli dèi, perché ancora oggi, per esempio, la prima gerarchia vive anche dove si formano nuvole, tuoni e fulmini. Appesantito dalla presenza luciferica, letteralmente si riempie di materia e diventa anche un essere di acqua e terra. Questa è la caduta dal paradiso. Perde il contatto con la divinità completamente. Il risultato? Prima non poteva sbagliare, perché sostanzialmente gli dèi decidevano per lui. Adesso no, è solo. E questa è la prima conseguenza. Si dirà, ma perché? Perché era l'unico modo per darci la libertà. Gerarchie abituate per milioni di anni a costruire, in un certo senso come quelle che ci hanno costruito prima dell'intervento luciferico, non avrebbero potuto mai cacciare l'uomo, perché era impossibile, non era nelle loro capacità. Si sono servite di un'entità che era rimasta indietro, come lucifero, e aveva questa possibilità. Ora, coincide perfettamente con la vulgata, si scende dal paradiso, ma questo non è tutto. Perché lucifero si chiama lucifero? Portatore di luce? Beh, perché ci porta la luce interiore ed esteriore. Letteralmente comincia ad aprire gli occhi dell'uomo che fino a quel momento, finché era in mezzo agli dèi, intorno a lui non vedeva niente, non ne aveva nemmeno necessità, vedeva soltanto il mondo spirituale nel quale era immerso. E comincia una visione molto offuscata, ma peraltro progressiva, del mondo che lo circonda. E questa è la luce esteriore. E poi la luce interiore sviluppa gli albori, lucifero, della memoria pensante. Per millenni e decine di migliaia di anni l'attività pensante dell'uomo è stata soprattutto memoria. Voi direte, ma questa accoppiata, ma anche nella letteratura, nel discorso ordinario, luce e pensiero sono sempre accoppiati. È solo una scienza tetragona e limitata che non lo vuole ammettere. Ma quante volte sentiamo dire, quella persona, quello è un illuminato. Perché? Perché trova soluzioni, ha intuizioni. Arriva subito dove gli altri brancolano per mesi. oppure ho avuto un periodo proprio tenebroso, sauno e il buio, poi finalmente ho visto la luce. E che vuol dire? Lampadina ce l'avevo anche prima. Ha visto la luce interiore. Quindi la luce è il corrispettivo esteriore del pensare, della forza pensiera interiore. Questo si potrebbe dimostrare ulteriormente, ma qui. Forse ci dedicheremo una conferenza, sempre se gli dei saranno d'accordo. Ora noi abbiamo semplificato questo trasferimento di Lucifero nell'uomo, ma è stato un processo complicatissimo. Perché secondo le direttive delle nostre gerarchie creatrici, cioè gli Elohim, ci hanno dato la coscienza immaginativa, la coscienza ispirata e la coscienza intuitiva. Gli Elohim e gli spiriti della saggezza. E noi saremmo dovuti rimanere con queste tre coscienze assolutamente spirituali intorno alla Terra, senza discendere. Cioè avremmo dovuto evolvere nella sfera in cui si sono stati creati. Chi è Lucifero è un Elohim mancato. Poi lo vedremo meglio. Non essendo arrivato alla destinazione che gli sarebbe toccata, opera nella sfera precedente, cioè la terza gerarchia. Questo naturalmente è un processo lunghissimo, come si può intuire. Ma le due conseguenze principali, oltre a quelle che abbiamo già descritto, sono che l'uomo comincia a perdere gradualmente la nostalgia dei mondi spirituali. E a essere sempre più sedotto dalle impressioni terrestre. Ecco perché viene chiamato il grande seduttore. Questo lo vediamo anche storicamente, perché se esaminiamo le civiltà della notte epoca, la quinta epoca post-atlantica, abbiamo fatto una conferenza apposta su questo nel maggio del 2016, la prima civiltà, quella indiana, odiava il mondo fisico. Viveva solo nella nostalgia dei mondi spirituali perduti. Tutto lo yoga è una serie di tecniche che hanno solo scopo di, in qualche modo, fornire dei surrogati dei mondi spirituali perduti. E per gli orientali ancora va discretamente oggi, è completamente dannoso per l'uomo occidentale, perché ha proprio un'altra costituzione. Veramente anche loro si stanno occidentalizzando nel mondo peggiore a una velocità che probabilmente non funzionerà più nemmeno con loro. Adesso, proseguendo, la civiltà successiva, la persiana, già è molto più interessata al mondo fisico. Quella successiva addirittura a Egizio-Galdaica, stabilisce l'agricoltura intorno al Nilo, secondo i parametri della costellazione d'Orione, eccetera, eccetera. Addirittura si interessa del fisico che circonda la Terra. E poi arriviamo al mondo greco, che è innamorato della forma fisica e odia l'aldilà in questo senso. Ce lo dimostra l'arte scultoria greca, soprattutto quando si ritrae la figura umana, la famosa frase, «Meglio un giorno da mendicanti sulla Terra che cento anni da re nell'aldilà». Addirittura al punto che la mitologia ci dice che persino gli dèi sono sedotti dalla Terra. Allora, quel libertino di Giove spesso prende forme umane per accompagnarsi alle figlie degli uomini. Non ci deve stupire perché tutti gli dèi greci sostanzialmente appartengono alla sfera degli angeli, non vanno molto più in su. Quindi l'angelo è molto vicino, rinuncia alle ali e passa un bel quarto d'ora. Dunque, a questo punto è abbastanza chiaro che la situazione era pericolosa, perché l'uomo rischiava di essere completamente soggiocato dalle impressioni terrestri e dimenticare del tutto la sua origine spirituale. C'è stato donato un antidoto. Qual è questo antidoto? È il dolore. Ci prendiamo tutta la responsabilità di questa affermazione, perché è facile dirlo, ma ci sono persone che per malattie gravissime soffrono le pene dell'inferno e non solo loro. Però è la realtà. Uno entra in un'officina, poggia una mano, non si accorge che è una piastra da saldatura. Per fortuna il dolore gliela fa tirare indietro subito, se la cava con una ustione di primo grado. Se se la lasciasse la perderebbe la mano. È proprio il dolore che gliela salva. Tante esagerazioni comportamentali nella nostra vita si fermano quando la sofferenza dice «Oh, e tu devi mangiare di meno qua, Coco, eh! oppure almeno ti avvisano guarda che bevendo tanto il fegato poi te lo sistemi non basta nemmeno il dolore spesso e vedremo che c'è anche un altro rimedio. Allora, l'evoluzione prosegue. Dalla Lemuria passiamo ad Atlantide. Atlantide era la civiltà successiva, continente che si trovava dove oggi c'è la dorsale atlantica, cioè l'oceano atlantico, la scienza non la riconosce, ma sono stati pubblicati tanti libri su Atlantide che questa stanza ripiena uno sull'altro non li potrebbe contenere. Atlantide è il teatro per l'ingresso nella nostra storia dell'altra figura ostacolatrice che è stata denominata da Zaratustra a Rimane. A Rimane non si rivolge al corpo astrale, si rivolge al corpo eterico, quindi è molto più profonda la sua azione. Intanto perché il corpo eterico ha tre universi dietro, è stato impostato sul Sole, sulla Luna, invece il corpo astrale è solo sulla Luna, quindi è più abbozzato. Poi perché il corpo eterico non lascia mai il fisico, anche quando ci addormentiamo, astrale e io si allontano, l'eterico e il fisico no. se l'eterico si stacca è la morte immediata. Possiamo tollerare piccole separazioni del corpo eterico quando uno per esempio si siede male su uno spigolo e dopo si dice che ci sia addormentata una gamba. È perché la pressione del sangue innaturale ha allontanato per un istante il corpo eterico, ma di pochissimo, e poi basta ritrovare una posizione corretta e la regolarità si ripristina. Qual è la caratteristica di Arimane? Le loro caratteristiche principali le vedremo dopo, però è un'entità altissima, perché se avesse proseguito correttamente il suo percorso sarebbe nella prima gerarchia, invece è nello spirito della saggezza, che è comunque la più alta della seconda. È il dio della mineralità. Il mondo minerale e il suo campo d'azione è esclusivo, cioè è solo lui che ci può intervenire. Lui agisce da subminerale, però il campo d'azione è il minerale. Perché è tanto importante? Perché è stato necessario alle gerarchie permettergli di intervenire. Anche lui è un'entità retrograda che ha perso la sua opportunità, perché loro non l'avrebbero potuto fare. Per un motivo molto semplice, che insieme alla mineralità Arimane porta le forze della distruzione, che poi portano alla morte. Ora, gerarchie creatrici di forze anabolizzanti, anaboliche, non possono creare forze cataboliche. Per loro è impossibile. Devono servirsi qualcun altro. Noi pensiamo anche che questo sia inconcebibile, ma no, perché la libertà non esiste per le gerarchie. Lo dice persino la nostra teologia tradizionale, per esempio i cherubini vivono nella completa contemplazione della divinità, ma è così forte che non hanno nessuna personalità a loro, possono solo recepire le direttive della Trinità e eseguirle. Tutti gli altri lo stesso. Come vedremo dopo, lo scopo dell'uomo è proprio quello di avere un essere con la completa possibilità della libertà. Perché fino adesso ce l'abbiamo noi e soltanto le entità retrograde che si sono, come si dice, un po' semplicisticamente ribellate alle entità regolari. C'è un po' di vero in questo, perché nel farlo preferiscono una loro evoluzione personale e non vogliono essere parte di quella dei loro superiori. C'è un po' di questo. Voi direte, ma è un atteggiamento quasi umano. Ma è veramente il smegisto che diceva come in alto, così in basso. Ci sono queste affinità. Allora, Arimani interviene e che cosa ci dà? La piena mineralità, quindi lo scheletro, e soprattutto ci dà la capacità di distruggere il nostro sistema nervoso, che anche lui controlla in primis. L'abbiamo dimostrato nella conferenza del microcosmo, noi possiamo pensare perché distruggiamo neuroni. Ne distruggiamo circa 80-100 mila al giorno. Persone che conosco io, secondo me, più di 10 mila non ne distruggono. Comunque, ne abbiamo 84 miliardi, 85, quindi ci possiamo permettere di pensare. Pensate tranquillamente, non succede niente. Ora, perché è così importante questo? Perché la nostra vita si articola tra vita e coscienza, sono i due poli. Il lattante alla vita esuberante, zero coscienza. La persona anziana si dovrebbe presumere che abbia una vasta coscienza e appena appena la vitalità per sopravvivere. Non è più così. Per trovare un vero anziano, un vero vecchio, adesso sono diventati proprio rari. Comunque, non scendiamo nel nazional popolare. Questo significa che cosa? che il processo finale della distruzione è la morte. L'abbiamo detto nella conferenza del microcosmo, le distruzioni continue, quotidiane, che ci permettono di pensare, matematicamente, si possono identificare come i differenziali. E la morte finale è l'integrale. Ora, si pone già una questione morale impesante, perché, oh, ma queste gerarchie prima ci danno il dolore e poi ci danno la morte. Sono pesanti questi trasferimenti. In questo senso, però, la morte va intesa veramente come un corollario inevitabile. Il dottor Stein fa un bellissimo esempio. Nessuno costruisce una ferrovia per consumare i binari. Si costruisce una ferrovia per trasportare da un punto all'altro merci, cose, vegetali, animali. Però nel farlo si consumano i binari, non c'è niente da fare. Ecco, noi per sviluppare la nostra libertà, la nostra coscienza individuale e progredire consumiamo il nostro corpo. Il nostro corpo è il binario su cui la nostra coscienza procede e si sviluppa. Non c'è niente da fare. In questa fase di evoluzione dell'umanità che non sarà sempre così, purtroppo paghiamo la coscienza, la libertà, l'individualità, la maturità con la morte. La saggezza è nel regolare bene i treni. cioè fare in modo come è successo al treno che c'era un buco nel binario e sono usciti fuori. No, nel saper distribuire le forze in modo che la morte arrivi proprio quando tutto quello che si poteva ricavare da quel corpo è stato ricavato. Goethe aveva una frase bellissima che vale la pena ricordare. Diceva la vita ha inventato la morte per avere più vita. che è stupenda, ovviamente più lo approfondisce Gede più rimane senza profondità. Non è un caso che la cultura contemporanea invece lo stia quasi quasi un po' mettendo in un angolino, beh, come da volpe l'uvo, questi non sono all'altezza di capire Gede, questo è poco ma sicuro. Allora, la situazione a questo punto dopo Atlantide è questa, che Arimane ci dà l'ultima sferzata. Siccome agisce sul corpo eterico e la nostra percezione sensoria, forse un giorno ci vedremo una conferenza, è uno scambio continuo tra l'etere per esempio dell'occhio e l'etere della luce, agisce in modo tale che se Lucifero aveva un po' velato i mondi spirituali per cui si vedeva così approssimativamente il mondo fisico ma c'era una certa chiaroveggenza naturale sullo sfondo lui la taglia completamente Lucifero ha posto un velo lui pone un muro proprio una corteccia ed è ancora così noi con il proseguire della civiltà atlantiana abbiamo perso gradualmente una memoria formidabile e abbiamo acquisito la capacità di calcolare e giudicare razionalmente oggi la memoria è rimasta come uno scampolo le persone normali hanno pochissimo memoria e a come stiamo educando la generazione attuale penso che avranno proprio pochissima perché la tentazione dice quando è morto Giulio Cesare Wikipedia Wikipedia Giulio Cesare basta con sta tentazione in tasca noi avevamo un bignami per materia che poi era pure dicevamo questi hanno un bignami universale nella tasca non credo che faranno grandi sforzi mnemonici invece come compenso per la perdita della memoria acquisiamo il pensiero razionale e come compenso per la perdita completa della chiaroveggenza acquisiamo la percezione precisa del mondo fisico che l'uomo trantiano ha conquistato molto tardi questa è la situazione e questi sono i parametri fondamentali per la creatura uomo che nel cosmo ha il compito di diventare una gerarchia che è capace di decidere e creare da solo senza prendere ordini da nessuno ed è quello che dovremmo riuscire a fare ci riusciranno quelli bravi che arriveranno in piena regola sul vulcano quindi tutto il percorso della vita dell'esistenza umana è un sottile gioco di raffinamento della coscienza ora c'è stata una differenza notevole tra l'inizio dell'attività luciferica e la fine di quella arimanica dal velo siamo passati al muro alla corteccia però tutto il processo ci dice che sono le gerarchie che distribuiscono i compiti nel cosmo l'azione di quelli che chiamiamo gli ostacolatori il male i maligni è bipolare come vedremo ma ha una sua funzione che non poteva essere assolta da nessun altro se non ci fosse Arimane non avremmo la natura intorno a noi perché Arimane essendo il dio della mineralità si trova in tutti e quattro i regni minerali ovviamente vegetale umano e animale umano non è poco non è poco quindi si vede benissimo che cosa in conclusione di tutta questa introduzione che il giudizio umano funziona così sulle questioni terrestri nemmeno più tanto ma per interpretare per esempio l'azione dei mondi spirituali non serve assolutamente niente in generale il giudizio umano segue la stessa legge della gravità la gravità diminuisce col quadrato della distanza eppure il pensiero umano tutto quello che si pensa di aver scoperto del del buco nero a 55 milioni di anni luce nella terra meno male che i fantasiosi siamo noi allora a questo punto ci rimane il passaggio successivo e qual è finché l'uomo era inserito nell'anima di gruppo era molto protetto dagli ostacolatori adesso l'uomo ha una coscienza individuale molto esposto quindi vale la pena di analizzare come agiscono sia l'uno che l'altro ci aiuteremo con un grafico che naturalmente forse quelli più vicini riusciranno a leggere gli altri no ma tanto io lo commento e poi la telecamera forse potrà fare uno zoom allora lucifero lucifero è un'entità ritardataria è un elohim mancato e per questo agisce tuttora dalla terza gerarchia angeli arcangeli arcai quindi c'è molto vicino per questa condizione di ritardo non ha potuto incarnarsi come uomo non lo può nemmeno adesso e per evolversi a necessità dell'anima umana d'altra parte per spingere a intervenire nell'uomo le gerarchie una qualche attrazione vi la dovevano pur concedere è orientato completamente verso il passato spirituale e rifiuta ogni realtà terrestre e fa valere questo suo peso nella vita della società ci sono molte persone che hanno grosse difficoltà ad accettare il progresso eccetera in campo esoterico mi sento continuamente dire ah ma il progresso rifermo subito dico senta lei ci va dal dentista eh sì se la fa fare l'anestesia guardi che quello è progresso un po' così allora agisce dall'anima sentiente cioè dal corpo astrale dall'interno agisce proprio dall'interno sul sistema sanguigno adesso vedremo come perché accende ogni entusiasmo animico questo è un suo gran merito l'entusiasmo che vi ha portato oggi qua lo dobbiamo a lui l'entusiasmo della ricerca spirituale lo dobbiamo a lui inspira la filosofia la filosofia è un'arte assolutamente luciferica e sostiene ogni sforzo umano per innalzarsi idealmente quindi anche la scienza con la S maiuscola la scienza che non va con i paraocchi che di fronte a una realtà è pronta a studiarla tutta non soltanto il fattore chimico fisico che può toccare con le mani perché la grande facilitazione qual è? che in questo tipo di approccio tutto l'oggetto è contenuto nel concetto se esamino un pezzettino di rame non mi sfugge niente mentre invece nei discorsi che stiamo facendo noi oggi ci vuole una grossa un grosso impegno personale per avvicinarsi cito un episodio che mi è capitato recentemente che merita di essere conosciuto seguivo per dovere d'ufficio una trasmissione scientifica dove si parlava dell'agricoltura biodinamica quella staineriana c'era un bravissimo agricoltore faceva vedere sta terra proprio nera sembrava caffè diceva uno scienziato molto illuminato vede questa senza concimi senza niente ogni anno migliora aumenta anche la quantità del prodotto ci costa pochissima acqua e non usiamo nessun fertilizzante quindi spendiamo anche poco c'è stata una una persona ho giustamente ascoltato dell'altro versante peraltro una senatrice che ha detto sì ma ce lo devono dimostrare per me l'antibiodinamica è agricoltura biologica più esoterismo dico scusa se ti dimostrano questa terra così eccetera eccetera e perché lo dico siamo prontissimi a dimostrartelo ma se tu non ti impadronisci almeno delle nozioni fondamentali dell'antroposofia come facciamo a capirci noi nella conferenza spazio-tempo abbiamo dimostrato che l'umiltà e l'interesse di approfondire i concetti della fisica della chimica ce l'abbiamo li seguiamo nella loro evoluzione e ci possiamo scambiare idee mi ha colpito molto anche l'esempio che ha fatto alla fine se uno ci dice che intorno a Saturno gira una teiera ce lo deve dimostrare è strana associazione mondiale da un mucchietto di terra così fertile che viene voglia di mangiartela poi tra l'altro Saturno è il teologo dei pianeti se si cuocina un po' di te ogni tanto allora promuove le arti Saturno è il dio delle arti non avremmo le arti scusate Lucifero senza Lucifero non avremmo le arti ci mancherebbero completamente pensate una vita senza musica è un silenzio assoluto oddio senza certa musica meglio il silenzio opera per estraneare completamente l'uomo dalla terra lui è attivo completamente in questo compito non gli piace nulla della terra vorrebbe che l'uomo diventasse subito un essere completamente spirituale sul quale lui potrebbe evidentemente avere un potere molto forte impulso all'emancipazione umana dalle gerarchie e il libero arbitrio la libertà la dobbiamo a lui l'abbiamo descritto il processo di caduta dal paradiso cosiddetto eccetera 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 ispira direttamente il genio nelle personalità predisposte quando diciamo qualcuno è un genio eh lì c'è proprio un'incorporazione luciferica perfetta perché? perché è molto evoluto Lucifero è un Elohim mancato quindi pensate che uno su Saturno era angelo sul sole arcangelo sulla luna arcai diventa spirito della forma sulla terra per arrivare dall'angelo al spirito della forma cioè dalla terza gerarchia al primo della seconda quattro universi quindi dire che non so Lucifero agisce dalla sfera della terza gerarchia significa che è estremamente più evoluto dell'uomo e quindi concede conferisce il genio alle personalità predisposte evidentemente risveglia correttamente l'essere umano nel senso fisico noi ci svegliamo accompagnati da Lucifero se non ci accompagnasse il nostro risveglio sarebbe molto problematico perché andiamo molto lontano la notte ma molto parecchio molto e questo significa anche che c'è un rapporto molto importante tra come dormiamo e come lo incontriamo poi al risveglio adesso i rischi e i pericoli che corriamo grazie all'azione luciferica il primo è l'esaltazione la superbia la vanità sono proprio le virtù luciferiche oggi le distribuisce così con la pala diciamo la pala non finisce mai qui vediamo persino la gente che piglia delle batosse terrificanti manco allora ma guarda impulsività priva di moderazione e controllo questo è molto grave la famosa frase del sangue alla testa perché Lucifero cerca di arrivare al sangue dal corpo a strada dall'anima senziente siamo pieni nella cronaca di atti che poi gettano nella desolazione che la compiuti quando rientra in sé proprio ammazza il figlioretto di due anni perché piange certamente c'è l'aiuto di sostanze dopanti tutto quello che volete un problema fondamentale oggi è l'alcol dei giovani però ciò non toglie che è un grandissimo pericolo questo l'educazione dovrebbe considerarlo molto di più le scuole stagliane lo fanno sollecita molto il dominio dei sensi sull'io nei sensi in generale non pensiamo subito a una cosa però l'uomo di oggi molto spesso è travolto dai sensi guardate la maggior parte delle malattie in occidente sono dovute a obesità e l'obesità congenita cromosomica è rarissima il 90% più o più dell'obesità è proprio eccesso alimentare è la gola fa un suo peccato di gola eccetera eccetera e questo forse è meno grave poi è l'autore di tutte le forme di infantilismo e immaturità direte ma è meno grave non tanto fai di queste supernavi da crociera che mettono paura questi giganti galleggianti e poi ti domandi sempre se perde il controllo l'ha perso ieri e vedi questi signori anziani perché ommai quasi tutto il turismo delle crociere è per la terza età e sono vestiti come questi signori di 70 anni con mini conni tacchi a spilo che sono pentano come deficienti ecco questa è proprio l'immaturità assoluta l'infantilismo dilagante che non è una cosettina tanto da poco perché la preoccupazione più grande di tutti i governi sarà assistere la terza età fra dieci anni perché quelli che ci arrivano autosufficienti che possono addirittura consigliare i giovani sono una minoranza poi è il dio del pensiero astratto e impreciso delle atmosfere sognanti del misticismo nebuloso cioè dell'esoterismo l'esoterismo ci va a nozze con questo pensiero astratto impreciso suscitante emozioni più o meno morbose atmosfere sognanti se uno fa scendere gli esoteristi sulla terra quasi sempre si ribellano insistenza ingiustificata in opinioni personali e filosofie prime di base l'incaponimento se qualcuno segue i dibattiti e vedrà lei persino di fronte alla realtà si continua a persistere in opinioni in sostenere tesi che sono assolutamente prive di qualunque fondamento sembra una cosa poco grave invece è gravissima ma l'inteso buddismo cioè essenico come contemplazione passiva della vita tutte le tendenze di diciamo chiaramente pigrizia interiore per cui non si vuole intervenire non si vuole agire si vuole lasciare gli eventi ci si squadernino davanti come un film tutte queste tendenze sostanzialmente sono tendenze luciferiche spesso spesso determinate anche la paura e giustificate però non è sana una persona che si lascia scorrere la vita davanti e non vuole mai intervenire non la vuole prendere nelle sue mani e questa è un'attitudine luciferica da tutto questo si vede che non parliamo di due entità che si svolgono la loro azione alle otto alle due e poi firmano il cartellino e se ne tornano a casa questi sono capaci di condizionare subdolamente i comportamenti di una vita intera perché malinteso buddismo essenico perché il buddismo non è mai stato questa contemplazione passiva basta pensare all'ottubrice sentiero del buddha poi mentalità nostalgica ostile alle novità timorosa di confrontarsi questa si sta diffondendo molto le persone si chiudono al riccio nelle loro realtà spesso familiari oppure non solo familiari hanno timore di confrontarsi il diverso viene visto come un foriero di chissà quali pericoli tutti i calcoli ci dicono che abbiamo un incremento demografico per cui se non interviene una massa enorme di lavoratori stranieri noi dovremmo rinunciare al nostro welfare nel giro dei vent'anni però lo straniero rimane lo straniero rimane qualcosa di diverso da me questo è un atteggiamento fortemente luciferico ostile all'innovità ci sono queste persone proprio refrattarie a cambiare una mentalità ad acquisire una realtà che i fatti ormai hanno imposto quindi ha una tripliciazione nell'eterico è il suscitatore della falsità proprio la menzogna la falsità è il risultato stesso dell'intervento del lucifero nel corpo eterico nell'astrale determina l'egoismo che sta letteralmente distruggendo la società perché l'egoismo è quello per cui 70 milioni di persone hanno la stessa ricchezza di 7 miliardi e poi nel fisico porta le malattie le malattie organiche è chiaro che uno scombinamento dell'astrale dell'eterico come quello che porta lucifero chiama come correttivo l'abbiamo visto prima il dolore della malattia in questo senso va intesa perché tutte le malattie organiche hanno questo compito carmico adesso letteralmente voltiamo pagina a rimane a rimane è un'entità impaziente mentre l'altro ritarda rallenta perde le occasioni a rimane è quello che brucia i tempi completamente avendo commesso questo errore in passato non ha riuscito a raggiungere la prima gerarchia naturalmente essendo molto alta richiedeva uno sviluppo molto sedimentato quindi opera nella sfera degli spiriti della saggezza tende alla figura umana per lui impossibile questa è l'aspirazione di lucifero avendo perso il treno tende ad assimilare la figura umana soffre moltissimo un'entità che per questa impossibilità soffre terribentemente e allega il suo dolore tramite l'intelletto umano quando riesce a inserirsi per benino l'intelletto umano ne ricava una specie di lenimento spirituale rimuove il passato fa esattamente il contrario di lucifero se fosse per Arimane tutto quello che noi diciamo di luna Satole Satole tutto cancellato Atlanti delle murie Arimane è interessato solo alla civiltà attuale e da questa vorrebbe costruire un nuovo futuro completamente determinato dalle sue qualità e agisce al contrario di lucifero sull'eterico lucifero agiva sull'astrale ma dall'esterno pure lui punta al sangue però che vuol dire agisce dall'esterno beh il Faust di Ghezio ce lo dice il Faust parla di Mephistofere Mephistofere Arimane Mephistofere l'ingannatore bugiato termini antichi ebraici e questo non l'ha capito tanto bene Goethe ha fatto un po' di confusione tra i due perché non esiste un solo ostacolatore lo stiamo vedendo non si è nemmeno accorto che la prima carta del Faust e soprattutto luciferica è la seconda arimanica dunque premi incessantemente verso il futuro siamo pronti per la clonazione no eh però la fanno lo stesso siamo veramente pronti per gestire l'ergia nucleare si sa dove mettere scorie incidentini di qua incidentini di là il problema di scorie non l'ha ancora risolto nessuno si pensa addirittura di creare una sorta tra sacerdoti del nucleare che di figlio in padre in figlio si trasmetteranno il compito di stare in un posto per dire alle generazioni successive guardate che qui sotto c'è un deposito nucleare che dura 20.000 anni la completa decadenza di alcuni cesio e altri dice ma ce lo scrivo che lingua parleranno fra 20.000 anni muono non si sa ci deve essere proprio uno lì che lo fa quindi lui preme incessantemente verso il futuro dunque cerca di agire nel sangue dall'esterno quindi con le seduzioni esterne a Faust Mephistophore promette il potere il successo il denaro grandi conquiste erotiche escalation sociale riconoscimenti di ogni tipo e sono tutte qualità esterne quelle luciferiche sono entusiasmi sensualità emozioni tutto dall'interno configura l'intelletto razionale attraverso la celebralità è una cosa immensa senza lucifero non avremmo l'intelletto razionale ecco perché il concetto di male l'ho detto all'inizio va affrontato quando ci sono le spalle larghe perché parlare di diavolo è femmo un momento senza lucifero non avremmo la libertà non avremmo l'arte non avremmo la mafiosofia senza rimane non sapremmo calcolare nemmeno la lista della spesa ci sarebbe rimasta sta memoria potentissima ma poi a un certo punto si sarebbe anche quella fagocitata da sola domina nella mineralità consolida le forme per esempio lo scheletro e questo ci permette la stazione retta cioè l'autocoscienza e fissa il pensiero questa è una sua caratteristica l'invenzione della stampa è stata propiziata direttamente da lui vedete qui che ambiguità perché evidentemente è una grande invenzione ma è anche un grosso pericolo perché se io dovessi dire di quello che si stampa quanto salverei ma la libreria mi buttano fuori vuole rendere l'uomo un essere totalmente serrestre è il contrario di Lucifero Lucifero ci voleva portare completamente nei mondi spirituali rimane e vorrebbe fare di noi quasi un robot assolutamente uomini privi di spiritualità questo si collega a quello che abbiamo detto prima perché il fatto di fissare il pensiero nella scrittura toglie molta molta libertà al nostro pensiero le persone che diventano schiave di un modo di pensare diventano totalmente terrestri soddiffusissime le due cose vanno a bracetto è terrorizzato da un uomo veramente spirituale e questa è una liberazione perché se uno si comporta antroposoficamente in regola non può temere niente da lui da rimane fugge letteralmente invece potenziato da tutte le paure di conoscenza spirituale lo potenziano incredibilmente le persone che appena gli parli al di là ma come l'altra stanza no no al di là svengono quasi e quelli la rimane se li porta dietro così agisce correttamente nel sonno cioè nel momento in cui ci addormentiamo mentre lucifero è quello che ci sveglia incredibile la rimane è quello che ci fa addormentare i criminali dormono benissimo si addormentano anche se il giorno dopo c'era sedia elettrica ci sono studi incredibili in materia questo significa che addormentarsi è un momento delicatissimo quella vecchia usanza che c'era una volta di fare inginocchiare il bambino prima di dormire dire la peghierina al buon Gesù quello dietro c'era una conoscenza immensa immensa è ancora un buon modo di educare i figli ma lo dovrebbero fare anche gli adulti magari non si inginocchino queste sono le sue caratteristiche i rischi principali che invece derivano da Arimene Arimene è il dio della aridità della prosacità del gelo onimico dell'avversione non gli piace la poesia non gli piace ogni forma di evasione artistica è un freddo gelido calcolatore proprio il ricercatore si interessa ma guarda che così poi dopo c'è il rischio che inquini io devo trovare l'algoritmo la formula se la vedranno loro e l'avversione soprattutto perché sfocia nell'odio guardiamoci in giro terrore dello spirituale è lui l'oroistica perché ormai è quasi irrazionale questo terrore cioè se uno vedesse che ci sono tante filosofie tante forme di pensiero che funzionano si avvicina a uno gli accenna un po' perché gli lo chiede lui avrebbe ragione di affoggiarsi ad una di tutte queste cose ma in questo deserto dei tartari è stato riassunto meravigliosamente da Woody Allen le ideologie sono finite Dio non esiste più anche io oggi non mi sento un granché quello è stato magistrale che abbia questo terrore dello spirituale perché lo sollecita lui perché? perché agisce sul corpo eterico da dove si scatena la paura e la paura non solo dello spirituale sta diventando un sentimento molto molto diffuso cala anche di età che non è una buona cosa i giovani non dovrebbero essere così spaventati negazione assoluta di ogni forma di preesistenza che cos'è la preesistenza? la vita prima di questa incarnazione è quella precedente che è importantissima se si nega la preesistenza non è possibile né parlare di cicli dell'incarnazione né di sviluppo dell'anima dell'uomo ecco Arimane combatte moltissimo tutte per cui si può parlare di immortalità perché a lui gli va benissimo ma non di innatalità ogni volta che nasce un nuovo individuo si produce una nuova anima è la concezione aristotelica diffusione e sostegno di false convinzioni infatti Mephistofe Mephistoifel vuol dire ingannatore mentitore noi ne vediamo a casse qua intorno un po' più a casse non voglio essere crudele ma una volta uno scienziato molto illuminato gli chiesero ma che cos'è l'aggettivo scientifico è ciò che viene scientificamente smentito cinque anni dopo questo è eccessivo perché alla scienza dobbiamo molto però non alla scienza unilaterale sopravvalutazione dell'analisi statistica la fomenta lui guardate è tutto statistica qua è sempre trilussa ci sono cento persone cento polli stiamo a posto un pollo per uno la statistica è a posto poi si scopre che cinquanta persone si sono mangiate due polli e gli altri cinquanta sono rimasti a guardare esasperazione di nazionalismi sciovenismi e frantumazione sociale in questo momento questo è il pericolo arimanico più grande non si parla di sano patriottismo no ma l'esasperazione del nazionalismo per cui persino il piccolo gruppo etnico di 35 persone deve avere il suo posto all'ONU deve avere la sua bandiera perché qual è il grande pericolo ma perché l'esasperazione di nazionalismi sciovenismi frantumazione sociale può portare solo due cose a livello civile la rivoluzione a livello internazionale la guerra è solo questione di tempo non c'è alternativa ostilità verso l'approfondimento conoscitivo dei testi religiosi Arimane blocca tutti i tentativi di approfondire a livello no seologico cioè servendosi del pensiero i contenuti religiosi si deve rimanere tutto nel dogma fermo lì immobile se qualcuno si ricorda quando abbiamo spiegato la pieghiera del padre nostro oggi pane fisico eterico astrale io no questo Arimane lo odia poi superstizione materialista l'elemento fisico è sufficiente a produrre la vita dell'anima dietro questo c'è Arimane cioè l'anima è il risultato di combinazioni neurolettiche chimiche interazioni dettate probabilmente mi sembra l'ipotesi più concreta da un calcolo di probabilità su universe interi di possibilità e poi si concretano soltanto alcune dietro questa convinzione che il corpo fisico sia sufficiente a produrre l'anima e quindi il pensiero c'è Arimane l'antroposofia che ci dice che il cervello fisico non lo produce il pensiero ha una fusione riflettente se non ci fosse mai uno specchio sulla nostra strada non sapremmo mai come siamo fatti il pensiero non nasce nel cervello ma se non si potesse riflettere nel cervello noi non lo potremmo mai conoscere non arriverebbe mai essere un pensiero cosciente quindi il cervello è un organo riflettente non è l'organo che lo produce il pensiero come non produce l'anima identificazione ingiustificata tra cibo ed essenza umana questa è un'altra tendenza molto molto inosviluppata l'uomo è ciò che mangia forse una volta forse una volta ma poi basta pensare so madre della Teresa di Calcutta mangiava una manciata di orzo indiano quello che nemmeno si cucina ma non credo che ha due datteri che non so e lavorava 20 ore al giorno questo lo approfondiremo dopo però per adesso ci basta sapere che questa è una tendenza molto molto sviluppata se adesso accendete la tv trasmissioni di etica alimentare ognuno ha la sua ognuno ha la sua ricetta come limiti assoluto noi potremmo dire che col cibo si può anche diventare piuttosto intelligenti ma i morali l'alimentazione non potrà mai portare alla moralità allora l'ultima meccanizzazione generale automi modelli industriali per produzione di massa sembra quasi una deviazione scontata ma noi con questo sistema stiamo distruggendo la terra l'artigianato non ha mai distrutto niente dice ma l'artigianato non basta per miliardi di persone stanno d'accordo ciò non toglie che con questo terribile dilemma che per poter dare lavoro l'economia deve crescere almeno 2% all'anno quel 2% sono risorse sottratte alla terra risorse di inquinamento i faudori della decrescita felice sono proprio degli ottimisti io mi auguro che quello che dico non sia vero ma noi già sappiamo che al primo agosto ci siamo consumati tutte le risorse dell'anno e che nonostante tutte le chiacchiere anche quest'anno 10 milioni di tonnellate di plastica vanno a finire in mare non è nemmeno cattiveria e questo terribile sistema di produzione a modelli per cui per esempio un prodotto individuale che non avrebbe questi effetti no non si può vendere a produzione di massa dietro tutto questo c'è lui che non significa che si debba rinunciare a una produzione di massa se devi sfamare non so quante persone evidentemente non lo potrai fare con l'orticello di casa però neppure si può ammettere che i rifiuti per esempio alimentari sono una cosa spaventosa sono quasi un terzo dell'inquinamento sono una cosa tremenda gli scarti industriali c'è stata una manifestazione in Cina che hanno giovani per l'estate detto basta non ci portate più i vostri rifiuti perché già i nostri non sappiamo più dove metterli ci sono città cinesi da 20 milioni di abitanti nate in 10 anni sono state costruite gettando tutti gli scarti nel fiume di qualunque tipo qualunque lanza un pezzetto di mattone nel fiume un pezzetto di ferro nel fiume un chilo di cemento nel fiume e questo è quanto quindi il panorama ci fa capire bene che ci troviamo in mezzo a due due entità che agiscono uno dall'interno uno dall'esterno tutti e due puntano a occupare il sangue dell'uomo uno attraverso l'astrale uno all'eterico quindi come dice se lo conosci lo eviti no non lo puoi evitare ce li abbiamo dentro se lo conosci lo neutralizzi questo sì e d'altra parte chi lo vorrebbe evitare e chi vorrebbe rinunciare allo scheletro come si fa chi vorrebbe rinunciare alla libertà ci sono due cose che noi non accettiamo mai uno che qualcuno inconculchi la nostra libertà ingiustamente proprio ci dà una reazione formidabile e l'altra di fare qualcosa senza esserne consapevoli così alla cieca uno è lucifero e l'altro rimane prendere coscienza delle cose e lo dobbiamo grazie al fatto che il pensiero si riflette nell'organo cerebrale distruggendo i neuroni è tutta opera sua quindi fino al mille diciamo così fino da Sant'Agostino a Galileo il pericolo più grande era sicuramente lucifero da Galileo i giorni nostri l'epoca dell'anima cosciente è a rimane si capisce il perché l'uomo ha acquisito un pensiero razionale e il suo campo ora l'approccio principale che deriva da tutte questa piuttosto cospicua serie di tendenze e rischi è come ci dobbiamo comportare per esempio nei confronti del godimento perché si può avere un rifiuto completo del godimento fisico o un eccesso naturalmente se ci chiudiamo al godimento ci chiudiamo al mondo ci chiudiamo in noi stessi è evidente che facciamo chiaramente il gioco luciferico se eccediamo nel godimento è chiaro che le conseguenze le conosciamo non è neppure accettabile quindi la falsa ascesi ritrarsi da tutto spartanamente l'ascesi dell'uomo moderno è un ascesi del pensiero liberare il pensiero da scorie 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 fino ad arrivare al primo grande risultato esoterico la coscienza immaginativa il pensiero prende coscienza di sé senza necessità di riflettersi nell'organo cerebrale abbiamo accennato spesso forse un giorno ci meriteremo una conferenza su questo tema dopo di che penso che i seguaci di queste conferenze si conteranno sulle dita di una mano quindi perché è così importante stabilire questa misura perché nella falsa ascesi bisogna anche dopo aver specificato e l'aver ascesi ascesi del pensiero balza subito immediatamente una necessità che aiuta moltissimo a rimane ogni forma di pensiero sciatto approssimativo superficiale che sorvola che usa i luoghi comuni le frasi fatte penso che qualcuno di voi avrà ancora la forza di sentire qualche dibattito in tv mi hanno detto che gli danno un premio nell'aldilà poi quando arriva luoghi comuni sembra incredibile c'è stato uno studio recentemente di un comitato dei professori di lettere dei licei dice che i giovani italiani dieci anni fa usavano 6.000 parole adesso ne conoscono 600 ma non si sa nemmeno se le usano tutte ora questo ritornare sui luoghi comuni sulle frasi fatte questo è micidiale ecco perché nel comunicare l'antroposofia diventa un dovere sacro la precisione assoluta dell'elochio del consecucio temporum degli argomenti perché se c'è chiude completamente la porta da rimane non c'è nessun rischio che si possa inserire la sua azione purtroppo non si limita alla terra si fa sentire anche nell'aldilà perché? ma perché per esempio una persona che disgraziatamente si lascia andare a tendenze arimaniche tutte queste qua non tutte una parte e muore così tende ad assumere forma arimanica dall'altra parte questo è un gravissimo problema perché i non arimanici quelli che sono morti moralmente non li possono proprio vedere non è che non li possono vedere che li odiano non è possibile lo scambio di visione tra i due c'è un quadro di Bosch che mi ha sempre colpito il pittore tedesco lui era un po' fissato con l'inferno hanno fatti parecchi di guardi con questa forma naif un po' per proteggersi ma c'è un gruppo dove ci sono i dannati da una parte i giusti dall'altra si guardano ma lui è bravissimo è riuscito a farli in modo che si capisce benissimo che non si vedono cioè la persona che assaversa la soglia con qualità arimanica e poi c'ha solo compagni arimanici nell'aldilà ma è molto simpatico secondo tende a densificare molto la forma fisica a rimane perché è il dio delle ossa il dio dello scheletro tutte le forme di ossificazioni sclerosi calcificazioni eccetera degenerazioni del sessuto osseo su tutte opere sua per via dei comportamenti della persona o di un karma che significa comportamenti pregressi questo porta come conseguenza che anche nel costituire un nuovo corpo nell'aldilà si tende a una tale materializzazione che l'anima ne ha quasi disgusto e cerca di non reincarnarsi che è una tragedia perché sarebbe come se una persona cercasse di vivere senza dormire ci sono quelli che la sparano grossa io non dormo mai loro sono tutte balle anche con anfetamine similari puoi andare avanti un po' ma se non dormi la più terribile delle torture purtroppo di cui abbiamo una delle più terribile non far dormire il prigioniero impazzisce prima arriva a un punto in cui racconta tutto di sé perché è troppo forte perché impazzire a quel punto significa vedersi proprio a rimane lucifero davanti che è una cosa pesante la terza situazione pesante ancora pure questa nel post mortem è questa che questo a rimane lo fa con tutte le anime giuste o non giuste immorali o morali per chi lo voglia approfondire bisogna che vada a vedersi la conferenza sull'aldilà arrivati alla mezzanotte del percorso tra due incarnazioni noi torniamo verso la terra attratti dalla terra e in questo percorso dobbiamo impostare il nostro karma e ricostruire il nostro corpo futuro è la parte più delicata lui tenta di accorciarla molto e se ci riesce poi su quell'anima avrà una forte presa l'unica difesa è attraversare la morte con una grossa messe di autentiche forze spirituali e allora come abbiamo detto prima di fronte all'anima veramente spirituale fugge terrorizzato per completezza di informazione uno dirà c'è anche pure questa c'è anche una terza categoria di ostacolatori più potenti di un grado di Arimene e due di Lucifero occultamente si chiamano Asura noi li azioniamo solo perché parleremo di loro forse con tanta profondità nella prossima incarnazione perché si stanno facendo le ossa che vuol dire Arimene si è ribellato quando il sole si è staccato dalla terra milioni di anni fa Lucifero quando si è staccato dalla luna loro agiscono da qualche migliaio di anni non di più però in due cose sono molto potenti già adesso una l'oblio di qualunque forma spirituale odierebbero sta libreria farebbero di tutto per cancellarla dalla terra e l'altra l'esasperazione della concezione secondo la quale l'uomo è solo un animale evoluto che è perniciosissima perché porta comportamenti animali qui e conseguenze terrificanti dall'altra parte e in questo purtroppo sono già piuttosto avanti ma chi segue l'antroposofia sul serio certamente non si farà mai convincere che non esistono mondi spirituali tanto meno che l'uomo sia solo un animale evoluto e abbiamo dedicato una conferenza a questo ora di fronte a questo panorama compresi questi gentiluomini della terza categoria uno si potrebbe chiedere ma se le gerarchie ci creano ci lasciano nelle mani di questa gente e poi se ne lavano le mani no perché noi siamo stati creati dagli Elohim il reggente degli Elohim cioè della sintesi di tutti e sette gli Elohim è il Logos quello che si trova all'inizio del Vangelo di Giovanni che è bellissimo in greco è in archeo è inologos eccetera eccetera il Logos è quello che nella nostra religione chiamiamo il Cristo a un certo punto non era più possibile garantire l'indipendenza la sopravvivenza del genere umano dagli impulsi di questi due signori e degli altri che stavano subentrando per cui il Logos Solare si è trasferito dal Sole perché era troppo lontano sulla Terra per agire da qua ed ecco che questo spiega perché viene chiamato Salvatore perché se no qualcuno io da ragazzino mi ricordo mi vergogno di dire questa forma di stupidità andavo in chiesa e mi dicevo sempre il Salvatore io mi dicevo ma da che mi sta salvando questo non so non era proprio comprensibile da che cosa fossimo salvati da noi stessi da che? dalla storia salvati sì perché in questo senso offre la possibilità di salvezza non è una salvezza automatica infatti per questo motivo chi è venuto alla conferenza successiva precedente voglio dire si ricorderà che abbiamo mostrato l'ingrandimento di questo che la fotografia del gruppo Linio che ha scolpito Rudolf Steiner personalmente in cui si vede proprio questa opportunità di salvezza cioè il Logos al Centro che rappresenta l'uomo perfettamente spiritualizzato che trattiene Arimane che lo vuole trasportare nei mondi spirituali scusate Lucifero che lo vuole trasportare nei mondi spirituali e respinge Arimane che lo vorrebbe completamente terrestre questa è proprio la sintesi della nostra situazione attuale perché il compito dell'uomo attuale dovrebbe essere proprio questo di trovare un collegamento così forte con questa forza che si può mantenere in equilibrio tra i due prendendone le qualità ed evitandone i difetti e questo è veramente possibile un esempio meraviglioso è stato Leonardo Leonardo ha preso il genio da Lucifero non lega nessuno e ha preso una capacità matematica razionale formidabile da Arimane gliela potrebbe da solo lui ma è rimasto un uomo fortemente religioso collegato alla figura centrale del Logos se no non si può dipingere il Cenacolo con questa intuizione immensa di dipingere il momento in cui comunica uno di voi mi tradirà ce ne erano già tanti di Cenacoli ma questo significa una presenza immensa a quell'episodio poi ne parliamo l'annunciazione la vergine dei rocce eccetera quindi l'uomo che trova a livello conoscitivo perché oggi non è più possibile il livello senziente con la divinità il rapporto con l'Ogos è in grado di tenerli così Lucifero mi vuole trascinare però io rimango un uomo terrestre e non mi faccio trascinare in voli pindarici a rimane mi vorrebbe completamente materialista privo di ogni strancio artistico no io cammino sulla terra come si deve e l'uomo dovrebbe essere un essere che ha la testa in cielo i piedi per terra e il cuore in questa sfera che è la sfera centrale e la sfera decisiva questo ci dice anche che cosa che i due non sono un male assoluto in nessun momento e quindi il male assoluto non esiste un'entità una cosa un comportamento è un bene in un certo modo diventa un male in un altro un anestesista passa di fronte alle vetrine a piazza a Cordusio a Milano e vede che c'è di male ma se lo aspetta in un ospedale per un intervento urgente di un infartuato diventa un comportamento criminale infatti andrà in galera fa la stessa cosa è il modo in cui la fa fa un esempio molto banale siamo noi che decidiamo come utilizzare in senso positivo o negativo la nostra vita siamo noi che determiniamo il bene e il male su questo non c'è il minimo dubbio ora tutto questo studio dovrebbe aiutare a capire che quando c'è una qualche tendenza sappiamo questo viene da quella parte perché vedete io posso disegnare un triangolo perché si chiama triangolo perché c'ha tre angoli posso disegnare tre lati ma non è un triangolo perché c'ha due soli angoli se ne unisco due c'è un triangolo ecco il triangolo si può immedesimare soltanto in una figura geometrica con tre angoli benissimo quando io parlo di libertà sono sotto lo stesso principio la libertà è un triangolo escendibile libertà dolore morte cioè libertà male morte non c'è niente da fare va accettato completamente perché è l'essenza della nostra vita se non ci fosse il male non avremmo la libertà se non ci fossero forze destruttive la morte non avremmo la coscienza quindi dovrebbe diventare anche un patrimonio esistenziale per cui poi di fronte alle difficoltà uno completamente non si lascia andare comincia a recriminare contro Dio la vita i genitori la famiglia la società il partito ma capisce che se c'è il male c'è uno scopo dietro c'è una utilità c'è una necessità molto profonda questo perché è particolarmente importante è particolarmente importante perché l'impulso del logos è stato praticamente automatico per molti secoli per tutto il primo millennio sicuramente poi è cominciato a scemare perché per rispettare la libertà dell'uomo perché un uomo aiutato come è stato aiutato dal logos cristo nei primi mille anni per una larga parte della sua libertà era inattivo e il processo è andato avanti ha avuto un deciso deciso scatto nel 1413 quando comincia l'epoca dell'anima cosciente nel ventesimo secolo è stato quasi azzerato in questo totalmente questo significa che se l'uomo non si attiva per andare incontro all'impulso che lo può tenere in grado di controllare i due l'impulso non fa niente sta a guardare ecco perché è tanto importante la conoscenza spirituale l'uomo sarà quello che pensa siamo già in questa fase che vuol dire lo vediamo già nella vita intorno a noi quante volte sentiamo dire ma per risolvere il problema è un problema di cultura bisogna agire sulla scuola io ero ragazzino e già si sentivano queste fesserie e come agisci perché per esempio una delle caratteristiche fondamentali è l'uso che facciamo del denaro il denaro sta distruggendo il mondo la società l'ha distrutta da un pezzo le anime pure ma il nostro sistema di procacciamento del denaro l'abbiamo detto prima sta letteralmente distruggendo la terra questo perché perché non c'è una contropartita non c'è una sezione spirituale da opporre a quella finanziaria l'abbiamo trattato nella conferenza sulla tripartizione che possa arginarla perché qual è l'unica forma spirituale che esiste oggi scampoli di antiche filosofie ideologie totalmente inefficaci la spiritualità di oggi è la scienza perché ognuno di noi ce l'ha in tasca mette in mano sto cosino e c'ha una potenzialità tecnologica impressionante non c'è mai stato una religione adorata come la scienza mai ci sono stati ceppi religiosi a contro di loro nessuno questa è una religione totalizzante come questa non si è mai vista l'uomo antico adorava gli dèi l'uomo di oggi adora il telefonino il computer le macchine e tutte quelle che sta progettando e questo è tutto in questa ottica qui meccanizzazione generale automi modelli ora pensare che una scienza arimanica possa opporsi a un sistema finanziario arimanico è semplicemente ridicolo si rinforzano uno con l'altro e quindi quando il dottor Stan ci ha detto che nella tripartizione sociale c'è il segreto del futuro della civiltà ci ha detto una cosa grossa perché nemmeno il futuro della terra è certo quando noi disegniamo giove sono le mete previste ma la terra sarà quello che ne faremo noi come il nostro futuro è tutto nelle nostre mani il detto latino qui squa e faber est fortune sue non è mai stato vero come oggi a livello dell'individuo e a livello della società che sono due cose separate l'individuo non è destinato a seguire la decadenza sociale si può trovare una sua strada di salvezza più che legittima ma l'attuale geologia è un rischio luciferico tremendo perché esclude qualunque forma di spiritualità nella terra nello studio della terra l'attuale cosmologia è un rischio animanico terribile perché l'universo è solo diventato una serie di realtà matematicamente definibili un gran meccanismo ci siamo qua meccanizzazione generale è proprio animanico ci serve una geosofia cioè uno studio della terra che comprenda anche le forze spirituali abbiamo fatto una conferenza conoscenza vivente della natura e ci serve una cosmosofia che alzando lo sguardo alle stelle non veda soltanto calcoli matematici e questo è proprio il contenuto dell'antroposofia che ci aggiunge all'antropologia l'antroposofia cioè lo studio dell'uomo dal punto di vista fisico animico e spirituale uno sguardo al futuro adesso che parte da lontano circa 3.000 anni prima del computo moderno del nostro tempo cioè anticristo in Estremo Oriente si è incarnato Lucifero in una personalità ben precisa che non è dato conoscere ma che è stata riconosciuta immediatamente dai suoi sacerdoti perché era in grado di pensare da solo cosa che l'uomo dell'epoca non sapeva far assolutamente 3.000 anni dopo in Palestina si è incarnato lo spirito solare per fare che? per pareggiare l'egoismo luciferico cioè la differenza qual è? Lucifero ci ha portato l'ego cioè la personalità individuale è separato dagli dèi ego egoismo il logo si ha portato una forma di individualità superiore l'io superiore che cresce aprendosi quindi mentre l'ego è centripeto l'io superiore il sé l'io cristico a cui tutti dovremmo aspirare è centrifugo cioè più si apre agli altri e più si potenzia questo nella vita di ogni giorno lo possiamo constatare spesso le persone che sono molto egoiche sono poco sono chiusi in se stessi hanno molta difficoltà ad avere contatti perché sanno che se si aprono perdono la stabilità interiore si smarriscono subito la persona forte è una che affronta ogni problema eccetera non si smarrisce mai in campo musicale si vede benissimo gli autori modesti fanno una canzoncina lo riconosce appena scrive una sinfonica ma da chi ha scritta rossini una così qualunque cosa scrive due nighe anche se non l'avete mai sentito ah questo è rossini perché riesce a conservare l'io superiore in tutto quello che fa ora la conseguenza la conseguenza la conseguenza domanda è il terzo che fa si è incarnato lucifero si è incarnato il logos beh in una società così meccanizzata indubbiamente si incarnerà anche a rimane 3000 anni prima del cristo lucifero simmetricamente più o meno si incarnerà a rimane quale sarà la caratteristica di questa incarnazione lucifero ha portato la libertà e un inizio di coscienza pensante il logos ha portato lo sviluppo dell'io superiore che supera la consanguinità e si apre a tutto rimane porterà la possibilità di capire i limiti dell'indagine fisica la esaspererà tanto che se l'umanità saprà incontrarlo preparata ne riceverà la certezza assoluta dell'esistenza dei mondi spirituali e un forte impulso verso la coscienza immaginativa con una precisazione però che le prime due incarnazioni sono avvenute nella totale inconsapevolezza dell'uomo di lucifero non sapevamo nulla se ne parlava Steiner quando si sono svolti gli eventi di Palestina ci sono solo due righe di tacito che dice che in Palestina il governatore Ponzio Pilato una setta di cristiani seguiva un certo Gesù tre righe finito invece a Rimani va incontrato in piena consapevolezza perché se lo sappiamo incontrare così con la coscienza di tutto questo e molto di più ne ricaviamo questo impulso violento verso i mondi spirituali positivi se no ce li troviamo la realizzazione di tutto questo è piuttosto rischiosa la cosa non è un caso che l'antroposofia è stata data agli uomini proprio in questo periodo ci sono domande? no lascio un elenco di libri steineriani per chi fosse interessato buonasera grazie grazie a tutti